like you lost the number one che secondo me è la migliore veramente fortissima ragazzi tira delle laserate pazzesche e la parita che vi porto appunto qua oggi è una parita su shipment ragazzi dove ho fatto una marea di kill tutte pusciate e stragi veramente infinite vi lascio al gameplay ragazzi fatemi sapere se vi piace quest'arma se la state utilizzando cosa ne pensate per me vale la pena provarle una delle armi che vi consiglio di maxare io l'ho già maxata infatti niente vi lascio al gameplay e buona visione che è successo? con 100 colpi devo mai caricare raga il dato così è bellissimo ma tra l'altro c'è la mappa zombie di questo gioco è red star è proprio che con 100 colpi si rallenta ma non così tanto non è che dici minchia diventa un mattone si nota però la differenza soprattutto quando miri dopo che stai correndo ah non ricarico mai con 100 colpi prendiamo Charlie guarda questo dentro al container centrale assurdo vergognoso ma mi ha ammazzato cazzo stavo lo sfullando io niente ti ho capito ma conquistiamo Baker oh ma c'è sempre quello nel container raga ehi ne puoi sentire lì dentro assurdo sono tutti chiusi dentro il container raga ci prendiamo Baker nuove informazioni pronte all'uso ricognizione nemica ci spiegano da un lato lascia un citratore grazie merda nuove informazioni pronte all'uso sono finiti raga ma sono usciti no già no 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 4 contro 4 ma sembra che sia un 8v8 è stra frenetica davvero no onesto 4v4 è godibile merda e dietro cazzo lascio un citratore arriva il nostro radio riprenditore padonna no è morto bruciato da quel figlio di puttana non ci credo su due kille c'è il viso raga sicuramente morirò sicuramente può campere anch'io però anch'io io santo no dai non ce la faccio non ce la faccio a campere lì vado a convincersi e poi no non ce la faccio non ci vuoi di aspettare cioè sto facendo beatmark e altre raga ci lamentiamo di questo goloso vista raga vede pure di no poi metto zero un mitraglione poi un cane nemico non devi sapere cane di merda sempre dentro al container sotto bra marta marta aspetta un secondo voglio impazzire sono pronti la mattina in tutti i modi raga dai porca troia restritti brutto sono sparati tutti a fianco per mezz'ora non riuscivo più ad andarmene ci prendiamo e nuove informazioni pronte a luto niente oh c'è sempre là dentro stanno sempre no vabbè raga mi sto distruggendo con st'arma ti sentite boys si sento si sento però non hai idea di contro li sto laserando con quest'arma nico te la giuro te la devo far provare vai 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 impressionante bro pista di nuovo niente sempre là dentro al container centrale finito i colpi raga non ci credo no non manco la cassa munizioni tranqui tranqui sono a venti di fila raga grazie per le informazioni non capisco il conto che c'è il gatto che è il gatto la partita è lunga la partita è lunga la partita è lunga la partita è lunga sono loro che non stanno prendendo un chill bro io me la prendo centrale munizioni queste sono chill mi riesco a ammazzarli raga mi stanno ammazzando ventidue dai 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 dove sei non so dove sei non so di una mano porco due raga impazzisco giuro mi chiudono sempre ventidue di fila no cazzo c'è un altro visa come piace a me mamma che partita però questa raga bella niente oh assurdo ce la vuoi fare daddy ormai sono morto ero ventidue mi mangio le mani veramente questa rada ve lo puoi fare questa mia cuara assurda raga vabbè velocissimo ho avuto dobson in mano fighissimo cazzo presto no no faccio headshot e niente assurdo il nemico lancia una cosa poco assurdo informazioni non morde tra un muro perché c'è con la merda di perk giuro un fastidio mi da è ancora lunga morte di nuovo raga 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 100 bombe solo di armi sta partita tutte busciate vai ah guarda tu lì che comunque potete aver tolto la mia arma definitiva come mitraietta dalla max o con questa facciamo le stragi mi aspettano assurda sta cosa quando finisce sta partita giura la sto odiando fanno tutti i net glitch o assurdo hanno capito che si muovono muoiono quindi logicamente stanno camperati a parte che mi sa che non posso neanche volendo muoversi un altro vista no vabbè raga no vabbè raga giuro folle quello che ho appena visto folle niente quelli con lo scudo impossibilitarli quando corrono 133 bombe di armi raga mica un delirio giuro buono grande ragazzi spero vi sia piaciuto il video lasciate un bel like qui di devilox è tutto vi mando un abbraccio ciao belli ciao